Quindi la comunicazione analogica è non solo il movimento del corpo, ma anche i gesti, l'espressione del viso, l'inflessione della voce, la sequenza, il ritmo, la cadenza delle stesse parole e ogni altra espressione non verbale di cui l'organismo sia capace, come pure i segni di comunicazione immagricamente presenti. In ogni contesto comunicativo fanno parte della comunicazione analogica. La comunicazione non verbale sono i segni del corpo, adesso però ho iniziato con i gesti, la comunicazione non verbale sono i gesti, i gesti popolari italiani, chi non li conosce. Poi sono la prosemica, vedete la distanza intima, la distanza personale, la distanza sociale e la distanza pubblica tra le persone. Questa si chiama prosemica, che la distanza verso le persone viene determinata da quanto distano tra loro nel momento in cui sono in qualche modo in relazione. In questo caso che vedete nessuno deve parlare, però dalla distanza che hanno tra di loro, che mantengono tra di loro, noi deriviamo una comunicazione rispetto alla loro relazione. Sono in intimità o si conoscono appena o si incontrano casualmente. Le espressioni facciali, ne abbiamo già parlato questa mattina, noi leggiamo le emozioni delle persone anche attraverso la loro espressione facciale, sono gli studi di Ekman. Anche i nostri occhi comunicano, attraverso gli occhi possiamo esprimere stupore, disgusto, che che sia. Poi la comunicazione verbale, anche attraverso i segni del corpo e della postura, vediamo che questi qui sono tutti estremamente motivati, no? Spero che voi stiate seduti in maniera più composta davanti allo schermo, me lo auguro. E quindi questo dimostra disinteresse, noia e quant'altro. E comunica, non parlano, non c'è bisogno che loro parlino, ma si capisce quale è il loro stato d'animo. Il sorriso, la tipologia del sorriso che comunica anche questo, cosa si vive, che esperienza si sta vivendo. Poi comunica anche l'incongruenza, no? Questo tizio qua che dice da noi, cortesia, disponibilità verso la persona, sono al primo posto. E poi ha uno sguardo molto severo e sembra piuttosto un ergastolano, anche interpretando il numero sulla sua maglietta. E' un messaggio incongruente quando le tre componenti sono incoerenti, cioè non sono incompleti tra loro nell'esprimere il concetto. E ce ne accorgiamo, no? Cioè lui dice una cosa, ma esprime un'altra. E quante volte uno dice, ma cosa ha detto? Hai detto questa cosa, ma come hai detto? Ha fatto la differenza. Quindi tra quello che si dice e quello che poi viene espresso attraverso tutta una serie di altri canali, non è tra loro, non è congruente nei messaggi. Parafrasando Bates e Jackson, non c'è nulla di specificatamente simile al 5 del numero 5, non c'è nulla di specificatamente simile a un leone nella parola leone. Perché noi, per convenzione, quel essere vivente, questo animale, che noi chiamiamo leone, lo capiamo noi. Perché abbiamo convenuto che quell'animale noi lo chiamiamo leone. E questa è la comunicazione digitale. In tedesco si dice Löwe, in inglese si dice Lion, ognuno segue un'altra convenzione per dare un nome alle cose. C'era un grande pensatore dell'antichità che diceva prima di mettervi a litigare, chiarite i termini. Perché magari state dicendo la stessa cosa, solo state usando termini diversi. Questo sta dentro a questo aspetto. Ma chi l'ha deciso che leone si chiama leone? Anche nella promiscuità culturale, molte volte sono da chiarire i termini di confronto, perché proprio si naviga su due dimensioni linguistiche diverse. E questo sembra banale, non lo è. Questo l'abbiamo detto. Questo l'abbiamo detto, c'è il rapporto tra il nome e la cosa, è un rapporto stabilito arbitrariamente. Qualcuno ha deciso, nel tempo è cresciuto, si è convenuto, abbiamo convenuto che il leone si chiama leone. Poi l'ultimo assioma, tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari, a seconda che siano basati sull'uguaglianza o sulla differenza. Questo è molto intuitivo. In generale, uno scambio simmetrico avviene fra interlocutori che si considerano sullo stesso piano, svolgendo funzioni comunicative e ruoli sociali analoghi. In generale, sempre, perché ovviamente ci sono anche delle differenze, uno scambio complementare fa incontrare persone che hanno una relazione, ma non sono sullo stesso piano per potere, per ruolo comunicativo, per autorità sociale o per interessi. E questo c'è, se io vado dal mio capo e comincio a dargli del tu e dargli delle pacche sulla spalla, non posso farlo, mentre questa cosa la posso fare con un amico. Nel primo caso è uno scambio complementare, che il capo sta su un altro piano dal punto di vista gerarchico rispetto a me, e io, sapendolo, regolo le mie comunicazioni in funzione di questo ruolo che lui riveste, che non è uguale al mio. E questo è bene, lo sappiamo, ma non sempre ne teniamo conto. Per comunicare da leader noi possiamo tener conto di tre approcci. Adesso non sto qui, voi avrete questo powerpoint, avete questi materiali, no? Ci sono persone che hanno proprio anche un modo di apprendere visivo, altri hanno un modo di apprendere uditivo, altri ancora hanno un modo di apprendere proprio aggettivo e comunicano anche in questa maniera, cioè comunicano sulla base di quello che vedono, che sentono, o che hanno, cioè con l'orecchio o che hanno sentito, con proprio col tatto. E se io voglio, se io sono un leader, e continuo a dire una cosa ad una persona, alla quale però lo dovrei dimostrare, va bene? Deve vederlo con i suoi occhi, deve averlo toccato con le sue mani. Se io dico, ti ho detto di non fare questo, non arrivo da nessuna parte, perché devo fare vedere di cosa parlo e devo farlo sperimentare. E se ho qualcuno che capisce le cose spiegandole, magari poi però non è subito in grado di apprendere attraverso la dimostrazione pratica, anche se è abbastanza difficile. Quindi comunicare tra leader, bisogna tenere conto di questo aspetto qua e comunicare in funzione di questo. C'è chi apprende più in maniera visiva, comunica di conseguenza attraverso i bigliettini, gli appunti sono perfetti, nero su bianco, comunicare con dati, comunicare in modo uditivo, comunicazioni verbali, c'è prestare attenzione all'ascolto e comunicare in modo proprio eccettivo, sono quelli che proprio entrano in contatto, in contatto fisico e esperienziale con le persone. E quindi cambiando i propri canali di comunicazione. Abbiamo ancora i quattro elementi del paraverbale, c'è trasmettere passione, c'è attraverso il fare io trasmetto qualcosa, come per esempio passione, posso trasmettere passione, interesse e qualt'altro. Poi il tono della voce, quello che avevamo già detto, la velocità dell'eloquio, il volume della voce e il timbro della voce. Il timbro della voce potrebbe essere non verbale, ma poi viene considerato un elemento paraverbale. Poi non sono quattro, ma quattorce elementi paraverbali che poi sono le esplosioni dei rami. Allora, siamo al tema del creare una buona alleanza educativa. Una buona alleanza educativa, vi chiedo adesso, come si crea una buona alleanza educativa? Cos'è un'alleanza educativa e come creiamo una buona alleanza educativa? Chi di voi ha problemi o chi di voi deve affrontare delle sfide in termini di alleanza educativa? Genitori che si mettono a dire, insegnanti che dicono che gli atleti devono smettere di fare sport, atleti che vogliono smettere perché, e poi io lo faccio proprio entrare anche nell'alleanza educativa, che smettono perché ci sono pressioni, dai coetanei, eccetera. Francesco, Antonio. Allora, io faccio tiro dinamico, per cui armi. La cosa più problematica è quella di far capire che le armi sono degli oggetti di sportive, non sono delle cose da terroristi, per cui mi ritrovo a dover prima giustificare con genitori, con educatori di altro tipo e far capire che noi facciamo sport e non facciamo i terroristi. Mi è capitato qualche tempo fa con un ragazzino che doveva cominciare a fare software. I genitori, convinti che dovesse fare wargame, che è un'altra cosa, sono sporti tattici, quindi non c'entra niente, con il tiro di dinamico sportivo. La mamma, fra l'altro, credo che era una estremamente sociale, mi ha fatto praticamente un interrogatorio su cosa fare, cosa non fare, che tipo di... se il suo figlio facendo questo sport diventava un bullo oppure se avrebbe potuto difendersi dai bulli, insomma, tutta una serie di cose. Ho dovuto quindi trovare alla fine un giusto compromesso fra cosa facevamo e cosa lei pensava che facevamo, portandomela in campo e l'ho tenuta là per due o tre lezioni. Alla fine ho capito che ne facevamo uno sport. È diventata la mia migliore alleata, mi ha portato a due o quattro o cinque ragazzini a fare un tiro di armi. Ok. E quindi, se dovessimo dire come l'hai convinta, come l'hai risolta questa cosa? L'ho risolta intanto spiegando, facendo vedere, quindi prima comunicando verbalmente. Non aveva capito, comunque io ne mi ero spiegato probabilmente bene. Scusa, posso interromperti? Ma prima della spiegazione cosa hai fatto tu? Ho chiesto di incontrarla perché non voleva far venire il bambino in un colligono a vedere. Ho chiesto di incontrarla e è venuta là. Ho fatto vedere cosa facevano i grandi. Poi ho spiegato cosa avrebbero fatto i ragazzini in soft air e poi l'ho proprio portata là. Ho fatto vedere pure le armi con cui giocavano. Proprio gli ho fatto toccare per vedere che erano delle cose innocue. Erano degli attrezzi sportivi, delle cose che potevano fare male. e soprattutto ho dovuto spiegare che erano delle persone che potevano fare male con gli attrezzi sportivi. Allora, guarda, aggiungo, hai ascoltato delle ragioni? Sì, hai detto che ho fatto un'entrazione, ho parlato per un'ora. Le hai prese, ti sei preso cura di quello che lei ha detto? L'hai presa sul serio? Sì, io capivo da genitore perché ho tre figli. Capivo da genitore che il suo, questo suo attaccamento era dovuto al fatto che voleva preservare il suo figlio da fare qualcosa che non era corretto e quindi mi sono messo un attimo nei suoi panni a comprendere questa cosa. Sono genitore anch'io e quindi lo capisco che voleva sapere. Quindi ho dato tutte le spiegazioni proprio perché mi sono messo nei suoi panni altrimenti ho detto se ti piace così se no non lo fai venire a tuo figlio. Ti sei medesimato, sì, non l'hai giudicata, ma ti sei preso cura e l'hai rasserenata. Quindi questo è, prima di poter spiegare una cosa hai ascoltato, poi hai accolto quello che ha detto, hai accettato, accolto quello che ha detto, te ne sei preso cura e l'hai rasserenata, cioè perché ti sei medesimata in lei, l'hai rasserenata e l'hai portata sul campo. Grazie. No, perché quello che tu hai raccontato in termini di esperienza personale trova riscontro anche in terminologie che si utilizzano in campo della formazione, cioè l'ascolto, il fatto di prendersi cura, il fatto di facilitare accompagnare le persone, il fatto di non giudicare, hai capito? Cioè, tu lo racconti come esperienza in campo della formazione, cioè, ci sono dei termini per questo e ci sono, cioè, a te è venuto naturale e spontaneo, altre persone questa cosa la devono imparare, l'ascolto. Oggi io non l'ho messo perché oggi stiamo anzitutto lavorando sulla vostra chiesa personale e fa parte anche quella dell'ascolto, però non potevamo fare tutto il programma perché qualcuno di voi questa mattina ha detto ogni singolo tema riempie una giornata e questo è proprio vero. Grazie, davvero, molte grazie, molto preziosa la tua condivisione. Qualcun altro? Un'esperienza o un'idea sull'arianza educativa, anche proprio Silvano è sempre ecco, questa volta non era per sbaglio, vai Silvano. Sì, no, dico, una buona alleanza educativa si potrebbe creare diciamo così, delimitando dei compiti fin dall'inizio, parlo per l'esperienza dal calcio, tra società, genitori, allenatori, nel rispetto dei reciproci ruoli ovviamente e quindi attuare un programma sia sportivo, tecnico e educativo appunto ognuno rispettando le ruole dell'altro, quindi il genitore, la società, gli allenatori e insieme riuscire a far ottenere migliori risultati ai ragazzi. Chi decide le regole di convivenza? Credo che bisognerebbe deciderle insieme però partendo da un presupposto che potrebbero comunque essere le regole non scritte anche nel calcio ma di buona educazione in generale. Ok. Sì. Il conflamento dei genitori specialmente quando si ha allievi bambini piccoli sia assolutamente necessario per me questa è solo la mia idea però non ho scritto da nessuna parte. Invece c'è scritto c'è scritto è giusto regole condivise due corsi di allenatore potenzi che da qualche parte l'avevo letto sicuro. Regole condivise e costruite insieme. Sì sono così questa è la mia idea ok tu che dici? Ah beh c'è ritengo che sia corretto cosa dicono gli altri? avete mai visto questi cartelloni fuori dalle società genitori vietati e questi articoli nei giornali voglio allenare una squadra di orfani? Sì tantissime volte purtroppo secondo voi loro hanno fatto quello che avete fatto voi delle regole condivise costruite insieme? Non penso ma qual è la differenza tra ordinare obbedienza rispetto a delle regole che è esplicito di caso in caso è un lavoro di cura rispetto a questo condiviso e costruito all'inizio dell'anno per esempio secondo voi qual è la differenza tra queste due cose? Magari vi risuona qualcosa che ho detto oggi tre bisogni fondamentali quali sono? uno l'ho stracitato il bisogno di competenza comunicazione? No tre bisogni sì relazione relazione sociale che è poi caratterizzata dalla comunicazione questo è il terzo e poi qual è l'ultimo? Preparazione informazione autonomia 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 e allora se io ti ordino di fare una cosa ti obbligo e tu non sia autonomo non sia autonomo se concordo con te le cose e alla fine sei tu che l'hai detto allora c'è una regola che ti sei dato da solo è più facile che la la rispetti perché questa qui a seconda tiene conto del tuo bisogno di autonomia è questo che le regole ci sono delle società che dicono ah ma noi gli abbiamo dato il decalogo del comportamento del buon genitore l'hai detto tu magari non l'hanno neanche letto hanno cacciato sotto tre croci Francesco volevi dire un'altra cosa? no no è rimasta la manina di prima ok ma dico come è possibile che una società di qualunque sport possa fare un decalogo di comportamento per i genitori è possibile perché l'hanno fatto è possibile sì perché quando tu ti credi il capo della situazione quando tu ti credi in un ruolo al di sopra al di sopra degli altri tu puoi dare degli ordini questo è potremmo riempire un'altra giornata proprio sulla questione della leadership e questo è uno stile di leadership che ha funzionato nel tellerismo c'è nelle fabbriche di Ford e quant'altro dove c'era un capo autoritario che ordinava quello che c'era da fare e se tu operai e non facevi quello che ti diceva ce n'erano altri 10 perché prendevano il tuo posto è uno stile di leadership molto molto ha fatto il suo tempo in alcuni casi è molto utile c'è affonda la barca se tutti devono dire cosa si fa c'è qualcuno che deve dire si fa così e magari ci salviamo sulla leadership potremmo riempire un'altra giornata perché la leadership in realtà ed è emerso da alcune vostre osservazioni la leadership in realtà deve essere adattata alla situazione qualcuno vi diceva io guardo il bambino come è girato guardo il bambino quali caratteristiche ha e condiziono o regolo la mia comunicazione in funzione anche delle emozioni del bambino la stessa cosa vale per lo stile di leadership che può essere situazionale e può essere situazionale in base al contesto può essere autoritario a perché non hai capito che oggi le persone difficilmente eseguono degli ordini e quindi deve essere proprio un caso di emergenza che può essere il democratico affiliativo vediamo se li metto tutti in fila lo stile coaching poi autorevole e dopo mi viene in mente anche il sesto sono i sestili di leadership secondo Daniel Goleman che ha parlato della leadership emotiva che contiene tutta la prima parte della leadership emotiva che poi sforcia in quelle sei situazionali e che si basa fondamentalmente su quella self leadership di cui abbiamo parlato questa mattina Dario accendi il microfono è comparsa la mano non c'è per me? no io non ho messo la mano lo giuro Francesco potete affermare e non me la prendo che sono un po' confusa io ho messo la mano appena posso si Francesco sempre prima o volevi dire un'altra cosa togliete la mano quando avete finito di parlare un'altra cosa a prossimo della leadership nel mio campo ci sono dei momenti in cui bisogna essere autoritario perché giustamente abbiamo a che fare con le armi per cui c'è un momento in cui quando sei in campo devi seguire qualcuno poi avere una situazione in cui devi dimostrare di essere il campo quando dici questa cosa non si fa e quella cosa non si fa perché è pericoloso quindi nonostante la metodologia non sia quella di essere autoritario in alcuni quindi bisogna essere autorevoli ma in alcuni casi bisogna anche essere autoritario ci si passa questo confine proprio per una necessità che è data alla sicurezza chiaramente quindi si usano più di un metodo grazie molto interessante sì mi rendo conto quando sono lì con le armi vi racconto un aneddoto ma non lo raccontare a nessuno io facevo la poliziotta quando ero giovane e una volta dovevo sparare una volta dovevo sparare ero lì e mentre sono con la pistola puntata mi sono accorta che non avevo le cuffie e con la pistola puntata mi giro verso il vestito e dico non ho le cuffie e lui giù l'arma mi ha dato un'ordine concreto mi ha dato un ordine concreto l'arma all'istante senza possibilità di appello ok sì sì è venuto in mente sentendoti parlare di questo fatto qua ok altre osservazioni cos'è una buona alleanza io volevo dire una cosa io volevo dire una cosa sul leader secondo me il leader è colui che sta a disposizione di tutti gli altri colui che in qualche modo aiuta tutti quanti gli altri e non anche se non so se potrebbe essere il più bravo o il meno bravo però un leader è colui che diciamo è disponibile per qualsiasi cosa verso gli altri in un gruppo penso che sia una cosa importantissima guarda mi sento di fare un commento rispetto a questa cosa è molto lodevole quello che tu dici è vero in tanti casi è vero che bisogna prendersi le responsabilità per contribuire alla buona riuscita delle relazioni all'interno di un contesto però io difido sempre dal dire è così perché noi viviamo in un tempo complesso viviamo nell'età dei paradossi in cui tutto è vero e il contrario di quello è vero no cioè ci dicono di lavorare per il team salvo poi essere premiati per la prestazione singolare e la stessa cosa per lo stile di leadership è vero quello che tu dici ma poi arriva anche il caso in cui non è più vero se io sono sempre disponibile verso gli altri e mi prendo le responsabilità per gli altri e nessuno se le prende pur potendose le prendere allora bisogna cambiare un pochino no perciò è molto vero quello che dici è necessario che le persone oggi si prendano le responsabilità però c'è anche qualcuno che se ne approfitta perciò non per dire che sia quello che succede lì da te ma la sostanza di quello che dico è di difidare di dare un valore assoluto alle cose perché poi ci sono sempre dei casi e dei casi opposti rispetto allo stesso concetto non era una critica era solo per dire che è bene difidare dalle dare giudizi assoluti oggi il leadership autoritario è abbastanza stigmatizzata ma Francesco ci ha insegnato che ci sono dei momenti in cui è necessario farlo è necessario che le persone si prendano le loro responsabilità ma è anche necessario che poi deleghino quando sono in sovraccarico quando non possono essere presenti quando ci sono altre cose ok grazie bene allora questo era cosa costituisce una buona alleanza educativa cosa mina normalmente una buona alleanza educativa una buona alleanza educativa è minata dal fatto che viviamo in dei contesti in cui tutti hanno ragione parli con i genitori loro hanno ragione parli con l'anatore ha ragione parli con il dirigente ha ragione no vediamo se ho messo qui tutti hanno ragione no guardate c'è il famoso bicchiere che è riempito per metà no in cui l'ottimista dice il bicchiere è mezzo pieno dal suo punto di vista lui ha ragione il realista dice beh sì d'accordo è un bicchiere l'idealista dice un giorno la fusione nucleare di questo bicchiere porterà la pace e la prosperità il comunista dal suo punto di vista dice questo bicchiere appartiene a noi tutti nella stessa uguale proporzione e l'opportunista dice vedo una bella camicia qui il capitalista dice se lo imbottiglio e gli do un altro nome posso fare una fortuna mentre il nichilista dice questo bicchiere non esiste in realtà non esisto neanch'io e dal loro punto di vista tutti hanno ragione e questa è una delle grandi sfide dell'alleanza educativa no quello che non lo dico solo io c'è un libro che si chiama il torto della ragione e il problema è che tutti hanno ragione tutti vogliono avere ragione come dice Bertolt Brecht ci insedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati per dire che per creare una buona lezione educativa la sfida è quella che viviamo in un contesto in cui tutti hanno ragione ognuno è la propria ok perché quello che voi avete detto serve per creare una buona alleanza educativa ma immaginatevi se Francesco Antonio avesse detto ma signora lo stanno anche i bambini neonati che in questo sport non ci sono pericoli e lui non lo ha fatto ma non è escluso che ci siano delle persone che si comportano così adesso lui ha optato per un atteggiamento pragmatico e utile al fine di avvicinare degli atleti a questo sport ma ci sono delle persone che dichiarano una finalità salvo poi comportarsi in direzione opposta rispetto ai loro obiettivi e a proposito voglio condividere con voi questa storiella che è di come si chiama ancora una che ha scritto il libro adesso non mi ricordo più lei riporta questa storiella una delle storie più significative ed efficaci riguardanti l'arte di ascoltare è quella di quel giudice saggio di fronte al quale furono portati i due litiganti il giudice ascolta il primo litigante con grande concentrazione e dice hai ragione poi ascolta il secondo e gli dice hai ragione poi si alza uno del pubblico e dice ma eccellenza ma non possono avere ragione entrambi e il giudice si pensa sopra un pochino e poi Serafico gli dice sai cosa hai ragione anche tu e questo proprio per dire che la nostra alleanza educativa nello sport così come nella scuola ma proprio nei confronti del giovane atleta della giovane atleta risiede proprio nel fatto che tutti hanno ragione ognuno la propria e a tal proposito vi voglio raccontare un'iniziativa che io ho fatto una volta in una società di calcio qui sul territorio mio con la società di Mezzano loro mi chiamarono abbiamo cinque minuti ce la facciamo loro mi chiamarono e gli dissero guarda noi vorremmo parlare un po' con gli vorremmo fare un evento con i genitori in cui qualcuno gli spiegasse l'importanza dello sport per anche per la scuola per le life skills e io ho detto beh ma perché lo volete fare ah ma perché non ce li portano perché dicono devono studiare quindi non c'entrano solo i genitori c'entrano anche gli insegnanti e beh sì 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 poi in realtà a volte non vengono nemmeno perché il sabato o la domenica perché c'è messa perché c'è il catechismo e quindi c'è non solo per via della scuola non vengono ma anche per il catechismo eh sì ho detto ma allora cosa ne dite facciamo un bel evento mettendoli tutti quanti insieme e abbiamo fatto due serate nella prima serata effettivamente abbiamo parlato dell'importanza delle life skills no non che li facciano e li costruiscono una parte piuttosto che da un'altra eh invitando in quella serata gli insegnanti di quella scuola perché era servita da una scuola media in particolare e un po' delle scuole medie nel circondario abbiamo invitato gli insegnanti avendo prima parlato con la preside poi ci sono stati i genitori ci sono stati gli allenatori e ci sono stati anche i catechisti e abbiamo parlato dell'importanza delle life skills poi quella serata ai genitori agli insegnanti eccetera abbiamo dato un compito per la serata a seguire e qual è stato il compito? che ognuno doveva dire quale fosse il proprio contributo quale fosse il proprio ruolo il proprio intervento per la buona crescita per la buona formazione per il benessere del bambino ma quale fosse anche il contributo indispensabile degli altri quindi non dovevano difendere abbiamo ascoltato le loro ragioni ma dovevano vedere anche le ragioni degli altri avete capito? e allora è stato molto interessante si sono trovati tra una serata e l'altra e hanno parlato di quali sono i nostri contributi le loro difficoltà la loro parte la conoscevano bene poi però dovevano anche dire quale fosse il contributo della scuola quale fosse il contributo del catechismo e in realtà siamo andati a comporre quella che è la realtà di un giovane in crescita in via di sviluppo che è un giovane che è al centro ma non al centro della nostra cura per il suo benessere ma al centro di richieste esclusive che ognuno tira dalla sua parte della ragione e il giovane lì in mezzo fa fatica a trovare il suo equilibrio e nel metterli lì insieme e mettersi anche nei panni degli altri e nel dire in che cosa sono indispensabili gli altri siamo andati a mettere le basi per una buona alleanza educativa che abbiamo chiuso con un gioco stato un gioco di tombola truccato ognuno aveva una scheda e si era detto chi finisce alla prima una colonna una fila non mi ricordo più come funziona deve alzarsi dicendo insieme si vince e l'avevamo truccato così che tutti hanno finito la scheda nel momento uguale e tutti si sono alzati e si dice solo insieme si vince quindi abbiamo dato loro anche un momento di grande emozione in cui ognuno correva per le proprie però alla fine tutti insieme vincevano insieme perché hanno finito la scheda insieme e questa è stata un'iniziativa che è stata valutata bene è emesso un fatto molto particolare che devo dire che quelli della parrocchia hanno detto ma i ragazzi qui da noi stanno veramente bene noi abbiamo a cuore loro benessere vengono qua che sono talmente stressati siamo contenti di poter dare loro un momento di svago e la scuola ha detto il nostro compito è stabilito dalla costituzione l'articolo tal dei tali dice che ogni bambino ha diritto all'educazione all'istruzione scolastica e noi assolviamo questo dovere è certo che quando tu ti nascondi dietro la costituzione per non vedere l'aspetto olistico la complessità e la complessività no e è stato questo è un aspetto critico che io ho rilevato io ho rilevato però diciamo così è stata una 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 iniziativa che poi li ha messi a confrontarsi no i medessi massi dell'altro no Francesco Antonio ha detto io mi sono messa nei suoi panni no e insieme poi hanno anche cercato di stabilire qualche qualche regola perché questo è proprio il problema della allianza comunicativa ognuno vede solo la propria fetta della realtà e noi dobbiamo accogliere questo e se abbiamo tre minuti finisco con questo perché quello che è l'essenza che rende necessaria una buona alleanza educativa aspettate che torno un attimo qua sta nel futuro che attende i nostri figli che è un futuro incerto con grandissimi cambiamenti che vi ho messo in fila un futuro incerto e sempre più complesso no in cui si lavora maggiormente con la mente meno con i muscoli in cui ci sarà un'economia basata sulle informazioni in cui i mestieri spariscono altri compaiono quindi bisogna adattarsi in cui c'è una grande combinazione tra soft skills e hard skills in cui il lavoro non è più il posto fisso ma il lavoro flessibile un mondo globalizzato immediato dai social è un mondo in cui c'è un'obsolescenza delle conoscenze che ormai è stimata in sei mesi quindi si è costretti e poi altre cose ancora e questo è un futuro di cui con difficoltà riusciamo a costruirci un'immagine mentale figuriamoci figuriamoci ad essere sereni tranquilli ad aver fatto tutto quello che serve ai giovani e agli adulti del prossimo futuro finché possano affrontare ed è per questo che noi dobbiamo essere i primi a mediare a negoziare tra le parti con l'ascolto cioè con il riconoscimento delle emozioni comunicando bene condividendo accogliendo i loro bisogni cercando di mettere insieme bene le cose affinché guardavo un blocco affinché tutti si rivedono in questa in questa in questa cosa perché il tuo altro della ragione qual è con questo io chiudo quando abbiamo tre parti in causa quattro parti in causa e una parte e uno ha ragione paolo potresti spegnere il microfono se abbiamo quattro contendenti e uno tiene la ragione che cosa abbiamo abbiamo uno contento come quello che ha ragione per quello che ha ragione la deve sempre difendere e quelli che non hanno avuto ragione abbiamo messo il seme per i futuri conflitti ed è per questo che bisogna tener conto delle ragioni di tutti e costruire il tetto alla questione una ragione in cui tutti si rivedono che non può che essere il bene del ragazzo il bene della ragazza che viene rispettato e realizzato attraverso tutto quello che noi oggi abbiamo costruito insieme conviene tener conto dei suoi bisogni conviene farlo sentire competente conviene farlo scegliere conviene farlo stare bene in compagnia conviene accompagnarlo facilitarlo non dargli le soluzioni ok e poi c'è un argomento che trovo bellissimo nel conflitto tra scuola e sport ci vogliono 10.000 volt e la lampada che funziona devono stare insieme io vi ringrazio abbiamo fatto 5 minuti in più dopo una giornata lunga spero che vi portiate a casa qualcosa ciao grazie la prima parte della giornata è stata un po' faticosa con la tecnologia però adesso abbiamo preso diciamo così vento in poppa l'insegnante al top vi ringrazio davvero anche della vostra partecipazione avete già tutto quello che vi serve grazie a voi non dire così Giuseppa perché non hanno già tutto no hanno tutto faremo tante altre cose insieme insomma avete già tutto dovete tirarlo fuori ecco devo completare la frase certo ma abbiamo ancora bisogno di tuoi interventi così così ricchi così partecipati così così arricchiti anche della tua esperienza oltre che della tua sapienza e quindi davvero grazie grazie a tutti voi riceverete domani l'attestato di partecipazione qualcuno ha già risposto al questionario e lo ricevete anche attraverso la mail quindi chi non l'avesse ancora già immiata già immiata benissimo e grazie tante alla mia amica Ilda perché mi ha dato una grande mano nell'organizzazione di questo seminario e grazie alla mia amica Sefi grazie Mirella grazie Mirella grazie mille e poi usate ciao buon lavoro usate il profilo di prestazione e approfondite sui quattro pilastri della Seed Leadership alla prossima ciao buona serata buona serata grazie a tutti ciao Veronica ecco ci sono tutti grazie a tutti grazie a tutti